buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo video oggi vi porto una nuova recensione intanto vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti per i commenti per i like per le nuove iscrizioni al canale siete davvero tanti non credevo vi sareste iscritti in così tanti al canale mi fa molto piacere devo dire quindi oggi come dicevo volevo portarvi una nuova recensione di un coltello a lama fissa un coltello che vi ho già fatto vedere nel primo video di consigli per gli acquisti dove parlo appunto dei coltelli bushcraft ed è il fox core ovvero il modello fx 605 si presenta con questo scatolo in cartone tipico di dei vari coltelli della fox della linea prodotta in italia a maniago abbiamo una piccola busta di plastica che lo racchiude ed ecco qui il coltello iniziamo subito col dire che si presenta davvero molto bene il fodero è in cordura con questa parte della punta in pelle o simil pelle devo dire non ho trovato informazione riguardo credo sia comunque una fin pelle anche considerando il costo ma è molto ben realizzata nella parte posteriore troviamo un passante per la cintura con bottone automatico particolarmente duro quindi permette di stare sicuri una volta agganciato alla cintura è un piccolo foro per il drenaggio dell'acqua qui in basso troviamo invece la scritta made in italy questo coltello infatti fa parte della linea della fox che produce in italia quindi a maniago mentre la linea che produce in cina è la black fox credo già detto in altri video il fodero poi ha all'interno uno strato plastico che è molto utile perché essendo in cordura il rischio è quello che con l'estrazione il rinfoderamento si potesse andare a danneggiare questa cordura quindi il rivestimento plastico interno permette di prevenire questa eventualità è molto ben realizzato le cuciture sono buone devo dire quindi davvero ottimo come come fodero nonostante non sia presente un sistema di ritenzione a scatto quest'ultima appunto la ritenzione è molto buona quindi non tende a cadere il coltello e anzi non si muove nemmeno dentro il fodero questo è molto bello perché ho alcuni coltelli con fodero in kydex che magari tendono nonostante siano il fissaggio sia ancora più tenace però tendono a muoversi cioè la lama tende a basculare all'interno e quindi da da fastidio in questo caso invece no nessun rumore passiamo al coltello questa è la versione con lama full flat quindi bisellatura flat se non tranne voglio dire in questa piccola parte superiore del dorso in cui sia sia un accenno di bisellatura che però è molto alta il profilo è un drop point il dorso della lama a questa questo profilo per cui tende a incurvare verso il basso ed è davvero molto bello secondo me vi do qualche dimensione allora la lama in totale misura 11 centimetri tutto il coltello misura invece 23,5 centimetri e il peso è di 150 grammi quindi un coltello abbastanza leggero consideriamo che il manico è in polimero non è un full tang quindi anche per questo il peso è abbastanza contenuto ma devo dire nonostante il peso sia contenuto da un'ottima sensazione in mano e soprattutto il peso è distribuito molto bene si ha l'impressione che infatti la maggior parte del peso sia distribuita in questa zona effettivamente se proviamo a tenere il coltello con un dito notiamo che il bilanciamento all'incirca si trova qui all'incirca quindi in questa zona tenendoli in mano effettivamente si ha questa sensazione quindi che il peso è ben distribuito e dà un'ottima sensazione la lama essendo 11 centimetri ha una dimensione che secondo me è più che indicata per l'attività bushcraft non è infatti né troppo corta né eccessivamente lunga rischiando di essere anche troppo ingombrante quindi il dorso della lama nella parte prossimale al manico questa zigrinatura molto ben realizzata devo dire che permette di fare leva col pollice nelle operazioni di intaglio o quando abbiamo bisogno di un ulteriore di una ulteriore leva e lo spessore è di 4 mm anche qui spessore che credo sia ottimo per l'attività bushcraft perché non è eccessivamente spesso quindi conserva delle ottime doti di taglio ma non è nemmeno eccessivamente sottile rischiando di danneggiare la lama o rischiando che possa rompersi o flettersi esempio durante operazioni di batoning o chopping vi dicevo quindi che il coltello non è un full tang è un hidden tang quindi il codolo del coltello viene immerso in questo materiale plastico che è un materiale chiamato pp c'è un polimero in polipropilene che viene mantenuto liquido e viene proprio fuso attorno al codolo dandogli poi la forma il codolo dovrebbe dovrebbe arrivare all'incirca qui quindi a due terzi o poco più del manico garantendo quindi un'ottima solidità nonostante sia un materiale plastico la sensazione al tatto è molto buona infatti sembra quasi che abbia una finitura gommata anche se così non è è proprio un materiale ma è un attacco ha da una sensazione molto buona c'è questa texture che ricorda quasi quella di un alveare che è molto molto bella nella parte qui in vicinanza alla lama è presente un incavo per l'indice qui è presente un altro incavo che credo abbia una funzione prevalentemente estetica in prossimità del logo della volpe della fox è guardato di profilo il manico a questa forma che tende quindi a diventare più panciuta in prossimità della lama per circa i due terzi del del manico per poi a sottigliarsi nella parte finale che garantisce obiettivamente una presa molto molto buona quindi si tiene davvero bene in mano il manico finisce con questa parte quasi appuntita e presenta nella parte finale un foro di dimensioni generose per mettere un cordino questo coltello è stato disegnato da un noto designer di coltelli che si fa chiamare vox credo sia danese ed è stato disegnato appunto da vox proprio per la fox che gli ha commissionato questo lavoro abbiamo il modello con bisellatura flat quello scandi e quello con levisceratore quindi indicato prevalentemente per la caccia altra particolarità di questo coltello è che l'acciaio di cui è fatta la lama è l'acciaio becut questo acciaio è un acciaio ottimo per vari motivi soprattutto considerato il prezzo a cui viene venduto questo coltello ha una durezza di 56 58 da 56 58 hrc ed è un acciaio ottimo per perché oltre ad avere un'ottima qualità di taglio di durezza e di capacità di mantenere il filo è anche un ottimo acciaio perché permette di trattare tutti quei cibi quegli alimenti grazie alla sua grande capacità di resistere all'ossidazione quindi un ottimo acciaio da utilizzare per tagliare alimenti e a fine alimentari quindi la lama non so se si vede ma a questo trattamento stonewashed che la rende molto molto bella visivamente da questo lato come vi dicevo c'è il logo della fox da quest'altro lato troviamo invece il nome del disegnatore col suo marchio quindi box becut steel e fabbricato a maniago italy mentre in basso in vicinanza al manico troviamo il nome del modello le fx 605 il coltello arriva con un'ottima affilatura già di fabbrica facciamo una piccolissima prova di taglio questa è una carta molto morbida l'affilatura è ottima quindi ottima affilatura ottime capacità di taglio e in definitiva posso dirvi quindi che è un coltello sicuramente che merita come avevo già detto nella nel video di confronto con gli altri coltelli di consiglio sugli altri coltelli bushcraft è un coltello che costa 50 euro in base al sito lo trovate anche un po di più ma si trova tranquillamente sulle 50 euro magari in descrizione vi metto il link che vi riporta al negozio in cui l'ho comprato davvero un ottimo coltello per il prezzo credo sia imbattibile per attività bushcraft outdoor perché davvero ha una una costruzione ottima ottimi materiali un acciaio che credo sia davvero ottimo soprattutto considerato il prezzo irrisorio è quindi un coltello che può davvero essere una buona risposta italiana in questo caso alla concorrenza per altri coltelli più famosi sempre in ambito bushcraft oltretutto si trova sia con questa bisellatura che scandi purtroppo non ho lo scandi a portata di mano ma perché non l'ho acquistato appena lo acquisterò ho infatti intenzione di farlo vi porterò magari un brevissimo confronto alla fine i due coltelli sono praticamente uguali per costruzione materiali cambia giustamente la lama credo che questa versione sia davvero davvero bella anche come profilo del coltello questa lama che tende ad incurvarsi quasi a fare una piccola curva verso il basso credo sia davvero davvero belle poi obiettivamente si impugna bene le dimensioni le dimensioni sono giuste per non essere troppo grande ma nemmeno piccolo quindi coltello promosso sicuramente a pieni voti lo consiglio senza dubbio se volete un coltello per attività outdoor bushcraft escursionismo magari per andare in boschi fare delle giornate di campeggio ve lo consiglio sicuramente con 50 euro spendete probabilmente meno rispetto alla concorrenza avete un coltello qualitativamente per alcuni diversi anche superiore rispetto a quello che offre la concorrenza per questa fascia di prezzo si intende però davvero ottimo quindi ve lo consiglio detto questo vi ringrazio ancora per i mi piace per iscrivervi al canale e niente ci rivediamo magari ad una prossima recensione o ad un prossimo video in cui vi porterò qualche consiglio per gli acquisti ne approfitto per farvi gli auguri di buone feste buon anno e quindi niente vi ringrazio ancora e buona serata